Cosa avrebbe detto Giorgio di questi anni andati via? Che nella coda han visto il marcio della solita ruberia di banchieri e finanziari? E di come si sono presi tutto e l'Italia torna ieri? E il futuro ormai è distrutto? Cosa avrebbe detto Giorgio di fallugia devastata dalla pioggia incandescente? Che la di colpo era in seguita? Vuoi vedere che era pace pure? Quel giorno a Hiroshima è feroce e muoce come cuoce questa pace un po' assassina? Cosa avrebbe detto Giorgio di questi anni di censure del pavaglio ai giornalisti? Rieducati nel terrore, licenziati allontanati, umiliati nel dovere dove infatti sono spariti Cosa avrebbe detto Giorgio della mafia che cammina con le scarpe del ministro e sopra il ponte di Messina, Mussolini e Campidogno che fa il saluto romano, presidente del consiglio, Don Bernardo Provenzano Cosa avrebbe detto Giorgio del Vesuvio nell'immondizia? E di ciò che abbiamo perso assieme al senso di tenerezza Quando poi si tocca il fondo, si comincia un po' a scavare Giorgio conosceva il mondo C'è sempre un'isola nel mio amore Grazie 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 Grazie